Mariano, allora non sono bastate 24 ore, è già forte il ricordo, soprattutto la voglia di essere ancora qui in Irpinia con i tuoi ex compagni? Ma sì, mi faceva molto piacere salutare tutti quanti perché comunque quattro anni non sono pochi, un giorno non basta, non basterà penso una vita per cancellare i momenti passati qui, mi faceva piacere, ero comunque qua e quindi non potevo non venire a salutare tutti quanti. Ti vediamo particolarmente emozionato, la tua cessione ovviamente ha lasciato il segno soprattutto in seno alla tifoseria bianco-verde, ci illustri un po' come è andata questa trattativa, è stata davvero lampa? Sì, è stata abbastanza veloce, comunque c'è stata la spalla che mi udiva fortemente, con un progetto serio, una società solida e tanto entusiasmo mi ha convinto, poi comunque devo anche ringraziare l'Avellino che comunque ha facilitato la trattativa. Anche perché avevi un contratto per altri due anni, con l'Avellino avevi rinnovato proprio l'anno scorso? Avevo altri due anni di contratto, però comunque sono state una serie di componenti che poi mi hanno portato ad accettare questa proposta. Ma è emozionante sicuramente, è stato per me terreno di battaglia, quindi sarà sicuramente un piacere, un'emozione grande, riabbracciare un po' tutti, saranno emozioni forti sicuramente. Sì, abbiamo parlato un po', mi ha detto che è una bella città, che si sta bene, comunque era felice per me, mi ha fatto in bocca al lupo, comunque c'è tanta stima col mister, quindi niente questo. Ma il rimpianto sicuramente attraverso di Gigi, probabilmente abbiamo un po' la storia di ognuno di noi. Sì, in momenti belli ce ne sono stati tanti, forse dirne uno è difficile, me ne vengono in mente tanti, quindi non so, mi piace dire... Sì, ma sicuramente magari la doppietta in casa col Padova, quella è stata magari l'apice di un momento bellissimo per me personalmente e per la squadra, però ce ne sono state tanti, anche la stessa semifinale di Bologna, uscire dagli applausi del Dallara è stata un'emozione bellissima, quindi tanti momenti, 4 anni sono tanti. Sicuramente la politica della società è quella un po' di tutti gli anni, una squadra giovane, per valorizzare i giovani, e con i 4-5 esperti che fanno un po' da chioccia. Sicuramente l'Aveldino farà il suo campionato come abbiamo sempre fatto in questi anni e alla fine farà sicuramente una buona squadra anche quest'anno. L'abbraccio più caloroso, più sentito con chi lo hai avuto, soprattutto visto che sei in uscita dall'albergo? Sono stati tanti, forse Gigi, quello con cui aveva un rapporto migliore, ci scambiamo la maglia, ce lo siamo detti già, però con tutti, perché comunque con Gigi siamo insieme da 4 anni, con gli altri Gita 2, Gita 3, quindi è un po' con tutti, facciamo un bel ricordo veramente di tutti.